Montagne russe non bene, dobbiamo fare di più sia in casa che fuori, dobbiamo dare continuità perché ormai diciamo che la classifica è quella e noi dobbiamo pensare a fare partita dopo partita e ormai dobbiamo entrare nell'ottica e noi ci dobbiamo salvare e quindi ogni partita dobbiamo pensare a quella e ai punti che sono in paglio e non pensare a quelle dopo. Non possiamo prendere tutti questi gol, non possiamo fare come dici tu tutte queste altalene e dobbiamo cercare come dicevo prima di pensare a una partita alla volta e di fare bene in quella partita. Tutti si aspettano sempre di più specialmente nelle ultime partite, diciamo che eravamo partiti meglio e le ultime partite vedendo anche i gol che abbiamo subito tutti non stiamo facendo bene e dobbiamo dare sicuramente di più. Partendo io che sono uno tra virgolette i più grandi insieme a tutti gli altri, dobbiamo cercare di fare di più perché non possiamo prendere quattro gol a partita e quando non puoi vincere bisogna pareggiare o perlomeno se perdi, dobbiamo cercare di perdere. Sì, ma sbagliamo perché facciamo tanti errori, facciamo troppi errori, infatti oggi il mister ci ha fatto vedere, facciamo un sacco di errori, quando prendiamo gol facciamo troppi errori e dobbiamo cercare di non farli per cercare di, se non possiamo perderla, di pareggiarla almeno. Sicuramente noi potevamo vincere e fare qualche punto in più nelle partite iniziali e se ti devo dire la verità pensavamo di avere più punti e di non ritrovarci là anche perché come dice parecchie volte il mister se fai un filotto di due o tre partite ti ritrovi subito in alto. Il problema nostro è proprio quello, non l'abbiamo mai fatto e facendo l'altalena come diceva Anian non ce la facciamo mai a fare quel salto che potrebbe portarci un po' più in su. Diciamo che ho fatto parecchi anni anche a scadenza, l'ultimo anno a Cosenza ero a scadenza quando abbiamo vinto il campionato e non mi sono posto questo problema di essere a scadenza Sicuramente se la società verrà mi siedo volentieri a parlare, anzi mi sono trovato bene, mi trovo bene e penso anche che la società nuova sia una società importante che è entrata sicuramente per far bene quindi se verranno io sono molto contento e orgoglioso di continuare a far parte. I primi due anni, lo sapete meglio di me, non ho fatto tanto bene anche perché oltre che ho giocato poco, nel secondo anno non ho fatto bene. Quest'anno abbiamo iniziato molto bene tutti e quando tutta la squadra non fa bene, poi ogni singolo, sapete meglio di me, non fa bene quindi tutti dobbiamo cercare di fare nel migliore modo possibile.